oggi siamo qui per parlare di ricerca spaziale fritz schermo dopo l'unione sovietica e gli stati uniti è stata l'italia nel 1964 il terzo paese a mettere in orbita un satellite artificiale e oggi siamo uno dei paesi che più investono nella ricerca spaziale agenzia spaziale italiana la strada che porta allo spazio passa per il nostro